Continua il momento positivo della Roma nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A nell'anticipo di martedì sera. I giallorussi di Luciano Sballetti hanno vinto con il punteggio di 2-0 grazie alle firme nel primo tempo di Salah e nella ripresa nel finale di El Charawi. E nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Nainggolan, i romagnoli hanno fallito un calcio di rigore con Anderardi. Nel resto delle partite, in programma tra il pomeriggio e la serata, particolarmente atteso dalle 20.45, la sfida è distanza per lo scudetto tra Napoli e Juventus. Gli azzurri di Sarri, capolista, affrontano la delicata trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, mentre la Juventus nel suo stadio affronta il Genoa. Particolare attenzione per l'Inter dopo la sconfitta subita nel derby ad opera del Milan che ospita il Verona. Le altre gare della serata sono Empoli-Udinese, Fiorentina-Carpi, Verona-Atalanta, anche a completare le sfide Palermo-Milan-Sampdoria-Torino e Forsinone-Bologna alle 18.30.